Ogni domenica dalle ventuno, Sunday Night, la peri show di eventi a Radio Nostalgia, in diretta dal Juxtap di Sarzana. La domenica non è domenica se non segui il Sunday Night. Vivilo da protagonista, dalla pericena fino a tardanotte, o ascoltalo in diretta dalle ventuno. Sunday Night, la tua domenica, ricca di emozioni.